Sì, sono felice per le ragazze perché hanno fatto una prestazione straordinaria, a parte i primi 10-15 minuti dove ci siamo un attimino assestati, poi siamo tornati a giocare nel nostro modo migliore, siamo andati in vantaggio su una bellissima giocata e da lì abbiamo costruito la nostra vittoria importante, ripeto perché alla fine vincere, cresci sempre in autostima, vedere le ragazze deluse la scorsa settimana dopo un pareggio che abbiamo fatto a Tavagnaco dove eri in vantaggio e ti hanno recuperato al novantesimo, oggi hanno dato dimostrazione di essere sempre sul pezzo e con grande voglia, grande volontà, facendo anche delle giocate importanti e questa è la cosa che ci gratifica di più. Sono felice per queste ragazze perché Annulla aveva fatto solo un quarto d'ora col Milan, Battellani è la terza partita titolare, come hai detto te, è un 2002, è una ragazza secondo il punto di vista di prospettiva, è una che si applica a fare un po' tutti i ruoli, è un jolly, quindi sono felice per lei, lei sente la fiducia non tanto la mia ma soprattutto delle compagne di squadra perché la vedono crescere durante i lamenti, la aiutano e lei da ragazza molto intelligente e umile accetta questo e credo che il gol di oggi sia per lei la giusta ciliegina sulla torta. Lei sì, quando calcia di collo interno è veramente un calcio importante e l'ha dimostrato oggi. Sicuramente la pizza della settimana scorsa con il mister De Zerbi è venuto Giovanni Carnevale, il direttore generale, quindi le ragazze si sono caricate ulteriormente, questi sono segnali importanti dove si vede che il sassuolo dall'alto può far crescere il movimento femminile e noi cerchiamo di ripagarlo con questo tipo di prestazione, c'è solo da ringraziarle. Sicuramente le ragazze hanno sempre fatto gli allenamenti con la massima intensità e noi dello staff li vediamo tutti in forte crescita, quindi ci sono ancora margini di miglioramento importanti, dobbiamo andare a limare quelle piccole incertezze che abbiamo a livello tecnico, a livello tattico, sono proprio piccole però piano piano ci dobbiamo arrivare. Ricordiamoci che da dove siamo partiti, ricordiamoci che è una squadra totalmente nuova e quindi su questo dobbiamo cercare di lavorare giorno dopo giorno e anche perché non si finisce mai di imparare. Se oggi pensiamo di aver vinto 4-1 col Verona ed essere più bravi di tutti sbagliamo, quindi dobbiamo essere già da domani o lunedì quando inizieremo gli allenamenti concentrate per la partita della Juve che andremo a giocarci con massima intensità, a grande voglia perché la Juve è sempre la Juve, però cercheremo di mettere in campo le nostre migliori armi possibili. Sono cose importanti per noi dello staff che sappiamo dove dobbiamo andare a lavorare di più e soprattutto le ragazze prese singolarmente vanno a migliorare dove loro sono carenti e quindi questa è una cosa in più che ci mette a disposizione questa fantastica società. Sì, molto importante, vittoria molto importante, anche prima con i Sassuolo, sì, io sono felice. Speriamo ovviamente di essere tra i primi tre e abbiamo fatto qualche partita in cui non eravamo soddisfatte ma adesso siamo di nuovo contente. Sappiamo che la Juve è una squadra molto forte, sia dal punto di vista individuale ma anche proprio come squadra quindi dobbiamo lavorarci molto questa settimana e lavorare duramente per la partita di sabato prossimo. Il mezzo scorso ero infortunata, quindi all'inizio di questa settimana ho iniziato di nuovo ad allenarmi con il team ed è stata una grande gioia per me. Sono molto emozionata e molto contenta che questo gol sia arrivato su calcio piazzato e abbiamo provato i tanti in allenamento e finalmente è arrivato. Sono molto contenta appunto anche che il mister mi dia molta fiducia. Non sono contentissima di come sia andata la partita perché ho sbagliato molte cose però spero di migliorare su questo aspetto. Sì, il tiro è una cosa che coltivo fin da piccola e spero mi porti avanti. Siamo felici, abbiamo ritrovato la fiducia in noi stesse e continuiamo così. Siamo molto motivate tutte quante, sia chi gioca sia chi sta in panchina o in tribuna e siamo tutte molto motivate.